Un duplice omicidio in pieno stile Gomorra, con i killer che sparano in un centro abbronzante. E quanto è successo in via Luigi Rocco ad Arzano? I due sicari hanno inseguito e freddato all'interno dell'esercizio commerciale Ciro Casone, cinquattotenne e presunto esponente di spicco della mala locale. Ma a finire sotto i colpi del killer è stato anche Vincenzo Ferrante, fratello del titolare del centro estetico, che sentiti gli spari è uscito dal retro bottega restando anche lui vittima della mattanza. Il bilancio dell'agguato poteva essere anche peggiore. Due donne infatti sono rimaste lievemente ferite da alcune schegge dei proiettili e comunque via Luigi Rocco era particolarmente affollata e solo per un caso fortuito non ci sono state altre vittime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le indagini si muovono in due direzioni. Il duplice omicidio potrebbe essere frutto di una epurazione interna ai clan locali, oppure il capitolo di una nuova faida tra i clan costretti a lasciare scampia, spostando i loro interessi criminali nella provincia e la malavita locale. In entrambe le ipotesi resta il fatto che il triangolo tra Arzano, Grumo Nevano e Caivano sta diventando una zona particolarmente calda, con ben cinque omicidi nelle ultime settimane.